Stasera alle ore 19 incontro tra i quattro candidati sindaci presso la parrocchia di San Paolo. Stasera alle ore 19 incontro con i quattro candidati sindaci presso la parrocchia di San Paolo. Stasera alle ore 19 presso la parrocchia di San Paolo incontro con i quattro candidati sindaci presso la parrocchia di San Paolo. Stasera alle ore 19 presso la parrocchia di San Paolo incontro con i quattro candidati sindaci presso la parrocchia di San Paolo. Stasera alle ore 19 incontro con i quattro candidati sindaci presso la parrocchia di San Paolo incontro con i quattro candidati sindaci presso la parrocchia. Stasera alle ore 19 presso la parrocchia di San Paolo incontro con i quattro candidati sindaci presso la parrocchia di San Paolo incontro con i quattro candidati sindaci presso la parrocchia. Stasera alle ore 19 presso la parrocchia di San Paolo incontro con i quattro candidati sindaci presso la parrocchia.